buongiorno a tutti e bentrovati nel mio canale con un nuovo attacco d'arte realizziamo una casetta a due piani in scala h0 per modellismo ferroviario o per deorami questo è lo schizzo e questi sono i vari pezzi con le misure in scala dopo averli riportati sul cartoncino li ritaglio con un bisturi costruisco per primo il tetto con le tegole con il sistema che vi ho insegnato e di cui trovate il link in descrizione ritaglio la parte in più e mi dedico alle finestre realizzate in precedenza con la stampante 3d le incollo con della colla e all'interno posiziono della plastica rigida trasparente come se fossero i vetri aggiungo una striscia di balsa come separazione tra un piano e l'altro all'interno coloro con della tempera mentre all'esterno passo la colla vinilica appena diluita e faccia asciugare bene si conclude la prima parte vi aspetto nel prossimo video per la seconda parte mi raccomando iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui social e come dico alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti